Ciao ragazzi, parte oggi una nuova rubrica dedicata all'Inter News, tutto ciò che riguarda il mondo inter e non solo calciomercato, seguendo un po' quello che scrivono le varie testate giornalistiche. Il primo sito, che ritengo il più attendibile, è quello di FC Inter 1908 e c'è subito una notizia dell'ultima ora, una notizia direi positiva, infatti i calciatori pare che abbiano rinunciato ai premi Scudetto. Scorrendo sotto, eccolo qua l'articolo, Beppe Marotta è riuscito ad ottenere non solo l'approvazione per la diluizione degli stipendi, ma pare che il gruppo squadra si è detto pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria dello Scudetto, quindi una promessa e un gesto importante per venire incontro alle casse del club. Seguendo la copertina del sito c'è anche un articolo riguardante Van Hausden, il giovane Zigno come viene chiamato, che è in prestito allo standard Liegi, c'è un'intervista al padre, nell'estate del 2019 lo standard ha versato nelle casse dell'Inter 12 milioni di euro e secondo il piano originale quest'estate il club nerazzurro dovrebbe riportare a Milano il difensore per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. La pandemia ha sicuramente stravolto tutti i piani, quindi la domanda è Van Hausden tornerà a Milano o rimarrà ancora un'altra stagione allo standard? Il giovane difensore è tornato ad allenarsi dopo il grave infortunio al ginocchio subito a novembre, questo è anche un punto un po' da valutare, quel che è certo è che l'Inter dietro sicuramente farà qualcosa anche perché sia Ranocchia che Kolarov dovrebbero andar via. Due notizie in copertina riguardano uno la questione stadio e l'altra la situazione economica dell'Inter, c'è un'intervista al sindaco di Milano Sala che afferma che la prima garanzia che l'Inter abbia risolto le questioni societari. Il sindaco di Milano per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio vorrebbe la garanzia che l'Inter abbia risolto le questioni su una possibile vendita della società. Io sono del parere che prima di ottobre non se ne saprà nulla anche perché per quello che ne so io a ottobre dovrebbe scadere il mandato, quindi ci sarà un nuovo sindaco a Milano, quindi da quel momento ripartiranno sicuramente i contatti. Per quanto riguarda invece il futuro societario dell'Inter viene riportato un aggiornamento del sole 24 ore secondo cui sarebbe ormai un passo l'accordo tra Suning e Ben Capital per un finanziamento da 270 milioni di euro per il club nero azzurro, un maxiprestito che comporterebbe anche un riassetto societario e che apre nuovi scenari per il domani del club. Poi a fcinternews.it che riporta sia la questione stadio sia la questione invece riguardante la situazione economica dell'Inter e poi c'è un articolo sullo scudetto ormai vicinissimo dell'Inter attesa anche per il vertice con Zhang. L'Inter che si prepara a celebrare il diciannovesimo scudetto della sua storia e il titolo potrebbe arrivare già nelle prossime due giornate con Crotone e Sampe. Infatti mancano quattro punti, ormai il countdown va via via scemando e se l'Atalanta non batte il Crotone saremo già campioni d'Italia nel fine settimana dando per scontato ovviamente che l'Inter vinca a Crotone e l'Atalanta non con il Sassuolo. Come conferma il sito poi sarebbe un trionfo alla presenza di Steven Zhang che giovedì tornerà a Milano e venerdì con ogni probabilità andrà ad Appiano Gentile per salutare la squadra ed incoraggiarli prima della partenza per Crotone, una trasferta alla quale comunque non parteciperà. Antonio Conte e tutta la dirigenza sono in attesa di un confronto con il presidente per capire le intenzioni della proprietà in vista della prossima stagione. Prattempo c'è da completare l'ultimo step per uno scudetto strameritato e poi ci sarà tempo anche per dare soddisfazione a chi finora ha giocato meno come Radu, Kolarov, Vesino e Pinamonti. Io particolarmente sarei curioso di vedere finalmente Radu, almeno qualche partita anche se come pare sarà ceduto la prossima stagione e vedremo un po' come andrà a finire la questione portiere. Dello Sport nel suo live aggiornamento riprende un po' la questione Scudetto e scrive quando si festeggerà questo diciannovesimo tricolore? Inter Sampdoria l'8 maggio si giocherà alle ore 18, sarà il giorno dello scudetto o arriverà prima? Crotone-Inter che in programma sabato 1 maggio alle ore 18 e il match sarà visibile su Sky Sport. L'Inter andrà a Crotone senza squalificati, restano infortunati Kolarov e Vidalle, mentre ci sono tre giocatori in diffida che sono Darmian, Young e anche Romelu Lukaku. Passiamo invece ai siti di calciomercato, un po' quello che ci interessa di più anche se in questo periodo le varie notizie sono sempre da prendere con le molle. La prima news riguarda non a caso la questione portiere, l'Inter riflette su Andanovic, rinnovo e standby quando si decide, futuro incerto per Samir Andanovic, l'Inter infatti ha deciso di proseguire con il suo capitano per un altro anno, invece in standby il ragionamento su un eventuale rinnovo per la stagione 2022-2023 se ne parlerà a fine anno quando si valuterà il rendimento della prima parte della prossima stagione. Io sono del parere che se l'Inter è in grado di fare un mercato in cui ci siano soldi a disposizione uno degli acquisti sarà sicuramente quello del portiere e il primo nome sicuramente Musso dell'Udinese. Un altro giocatore che rientra nei piani di Antonio Conte è Rodrigo De Paul, il numero 10 dell'Udinese, un giocatore che è diventato totale, molto più di un semplice numero 10. Il tecnico dell'Inter voleva De Paul già nell'ultimo mercato di gennaio ma le difficoltà economiche e la conseguente politica a cui si è dovuta adeguare il gruppo Suning hanno trasformato l'argentino in qualcosa di irraggiungibile con Conte che nel frattempo ha rilanciato Christian Eriks. L'incontro con Zhang ribadirà quelle che sono le sue idee, quindi no alla vendita dei pezzi pregiati della rosa, sì a un mercato controllato senza acquisti folli ma un rinforzo a centrocampo è atteso dal tecnico interista che ha in De Paul il suo preferito. Sul giocatore c'è anche il Napoli con l'Udinese che ne fa una valutazione alta. Io credo che siano tre gli acquisti principali che l'Inter per forza di cose dovrà fare, uno ovviamente il centrocampista, l'altro è l'esterno sinistro perché Yang andrà via e non si può restare solo con Perisic e ovviamente poi un attaccante di peso. Reparto di centrocampo che è davvero da valutare in vista della prossima stagione perché sì ormai con Brozovic, Barella ed Eriksen ha trovato la quadra però in mancanza di uno o di due di questi giocatori si va in difficoltà. Vidal doveva essere l'acquisto top che poi non è stato e sicuramente non possiamo restare con alternative quali Gagliardini, Besino e Sensi. Sensi che sarebbe un ottimo giocatore ma purtroppo è troppo limitato dai continui infortuni. Bene queste sono le notizie principali di oggi ora testa a crotone sabato pomeriggio e vedremo poi se sarà Scudetto aspettando Sassuolo Atalanta dovremo attendere sabato prossimo per Inter Sampdoria. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rinnovo l'invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti!